Continuano le scosse, continua il terrore, i nervi stanno saltando un po' dappertutto, siamo venuti con le nostre telecamere qui alla quartier generale Contram Camerino, dove il pool Interforce sta operando da giorni, ormai dalle primissime scosse, e continua con grande forza di solidarietà il lavoro di tantissimi. Abbiamo con noi i nostri microfoni l'ingegner Massimo Luce, direttore di esercizio Contram. Ingegnere, c'è stato uno sdoppiamento della vostra azienda, come lavoravate prima e come state operando ora? Certo, stiamo cercando di supportare al meglio un po' tutti, nel senso che la nostra struttura, diciamo, intanto è abbastanza sicura, forse la più sicura della zona. E per questo che siete tutti qua? No, non solo per questo, stiamo cercando di lavorare non solo per tenere i nostri servizi in ordine, ma per supportare tutti gli spostamenti verso la costa e poi di ritorno, quando a un certo punto fosse possibile, operare in qualche modo sul territorio, anche da parte dei cittadini che si sono spostati. Siamo nel cuore della centrale operativa Contram, dove si sta svolgendo tutta l'attività di spostamento dei numerosi, purtroppo sfollati, che dall'entroterra vengono portati sulla costa adriatica. Abbiamo con noi Franco Pongetti, responsabile dell'ufficio Movimento, che con il suo staff dalla prima scossa sta lavorando H24 per questa tipologia di situazione. Sì, diciamo che dalla prima scossa della settimana scorsa fino a questa del 30 abbiamo istituito dei servizi mare-monti e montagna-mare. Stiamo trasportando, diciamo, ed evacuando un po' tutti i cittadini che lo richiedono, diciamo dai vari paesi qui, Camerino, Visso, Fiastra, Bolognola, Montecavallo, Muccia, Piebo-Vigliana, Caldarola, Tolentino. Quindi tutti questi paesi trovano un bus pronto a portarli verso la costa e il mattino successivo, ad un orario per ora, verso le 8, 8 e 30, li riportiamo alle loro origini e destinazioni. Siamo con il dottor Stefano Bellardinelli, diciamo, nel cuore della centrale operativa qui in azienda Contram. Io vorrei aprire proprio con un siparietto che abbiamo assistito per quello che può essere simpatico questa mattina. La vostra officina meccanica, i vostri meccanici che operavano nei mezzi, nello specifico dei carabinieri, abbiamo visto dei vigi del fuoco. Quindi c'è una grande sinergia tra tutte queste attività di soccorso, Presidente? Direi di sì. Contram e Spa è un'azienda di servizi pubblici e quindi è abituata a questi interventi, così come si fa per chi gestisce acquedotti o gas o redditi gas e noi gestiamo la redditi trasporto. Quindi anche gli impianti, le attrezzature sono importanti. Non solo questi interventi ai carabinieri, ma anche ai vigili del fuoco abbiamo già li aiutati a rimettere a posto due mezzi, non perché loro non abbiano un'organizzazione, ma sono in emergenza quindi non hanno tempo di andare a cercare officine fuori. Quindi noi abbiamo elettraudi, abbiamo meccanici, abbiamo ancora il personale. Come posso dire, se ci fosse un po' d'aiuto all'esterno sarebbe sempre ben accettato, però la nostra struttura ancora riesce a supportare tutte queste fasi tecniche dell'emergenza. Siamo con l'ingegnere Alessandro Campanelli, vice direttore tecnico Contram. È un ruolo importante il suo perché stiamo parlando di spostamento. Quotidianamente spostiamo quante persone, ingegnere, dal mare alla montagna e viceversa? Ormai le contiamo sulle centinaia perché ci stiamo muovendo con moltissimi mezzi in tutti e due i versi ovviamente. Il lavoro è stato impegnativo perché noi ricordiamo che proseguiamo comunque tutti i servizi che facciamo normalmente. Oltre a quelli abbiamo dovuto aggiungere tutti questi servizi di navettaggio dove ogni giorno spostiamo centinaia di persone in sicurezza e negli orari più comodi.